Ciao a tutti ragazzi sono Gaps e oggi siamo su un nuovo video su Fortnite con Luca 2077 di Minecraft è solo su Fortnite, parla così si sentirà la tua voce Ma buongiorno Ok, allora link in descrizione del suo canale, bellissimo Oggi, video speciale, se dico la F di Fortnite, finisce il video, si stoppa Ok, iniziamo Sì, lo sto registrando anch'io questo video, infatti ho cominciato ora Ok Sì, perché non ho capito la challenge sul mio di canale, perché non ho capito il che ho cominciato ora Non dire la F di Fortnite Ok Quindi se devo dire Fortnite Eh, però abbiamo cominciato ora Però se devo dire Fortnite, dico Fortnite Yes Sì Andrà, finirà malissimo questo video Sì, però va bene Ok raga Il piccone è molto in tema il piccone, è molto in tema il piccone, allora vedi, è molto in tema il piccone E poi è molto intelligente questo piccone, guarda Sì, vedi, vedi, te lo mette in bocca Vabbè Lì c'è uno che nuota spensierato Di vivere Lago Lago è la mia città Loro è attento a non dire A non dire Lorenzo Trump Ok Gabs Almeno i nostri nomi li possiamo dire Sì Io ho già cominciato il video da 2 minuti e mezzo Però non possiamo dire attoria Erenica Renica Renetica Tipo Diciamo attoria Perché anche io Dico attoria però con la F davanti L'hai detto Attoria Ho detto attoria Ok Io ho detto Io di solito dico attoria con la Parola davanti Con davanti Mi sa che c'è una zanzara sul muso Che bello L'ho schiacciata e c'è il suo sangue sul mio corpo ora Che bello Loro è molto family friendly C'è molto family friendly C'è uno A dist E' quasi andato uno Andato via dove Dove è andato Al Caccia contro caccia Vince caccia Morto Vai morto questo Sei un po' laggoso Però a chi se n'è Ma a chi se n'è C'è un nemico Si chiama Lorenzo Trump Aspetta lo sparo Si è diventato famoso Si è diventato famoso Di orto Uno ucciso No Io ho paurissima Si beh raga Io lo scendo Ne lo faccio Io ho paurissima Si anch'io Perché a volte dici la Ma non te ne accorgi neanche Hai detto Forno Hai detto comunque Prima l'hai detta Però vale su di me Non so Però L'ho fatto per fare un esempio E poi orno E' quello lì Dettagli Era l'esempio Non è vero Ho un trasp Oh raga c'è gaps C'è gaps Ma Pop 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 Questo Questo Se facciamo No Non avete sentito nulla Se Taglia 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 Se Azzamo Vittoria Reale Senza Dire M E Lassate Liche Bellissima Ceste Bello Il caccino Violino Carino Misterino Poi Leggendarino Leggendarino E' Ucciso Ah Hai detto Ale Vai ok C'è una C'è una Winder Che è morta Vai tu Io parlo un po' A scatti Perché Ho paura Ho paura Di dire La M Di Mortonite Di Ortonite Io sento Tre chest Quante Kill Hai A Le Lussone Ok Fatta Lini Basta Per un attimo Mi è sembrato Di dire La M Night Sto spaccando il muro Raga Io vado a prendere Il drop Azzo Una Battuta Squallida Comunque Io Ho il P90 Ortonite Perché È night È notte Che Battuta Squallida Qual Come Uno Squallo Squallido Questa qui L'ho Detta Una R E anche No I predoni Pre Le pre Dele Pre Dele I predoni 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 Night Oh ci sono i predi Le prede Amico ci sono Le prede ci sono Le prede Le prede Vabbè io le scoccio E fin Sì tanto c'ho il caccia Bello Dove sono Però Aiuto Oggi Oggi I predoni I predoni Mi hanno Da me c'è un predone Che mi viene incontro Muori per favore Predone Perché mi ha detto Le Ialette Le Ialette Puzzolenti Uno Squaletto Blu Sì Beh Mi sapete Ce ne sono Ancora Però Questo Come Mi ha lanciato Una puzzolente Però Per fortuna Non Vi ho Cosa Le Puzzolenti Me le Tengo Sono Comode Squaletto No Perché Vabbè Io Dico Finisco Video Qui Dal Tazzo Vai Ho registrato La clip La metto Subito A registrare No Dopo Sta Partito Aiuto Aiuto Lo Chillo Io Puoi Tenerti Se Resisto Alla Allora Ragazzi Io posso Dire Posso Dire M Quindi La posso Dire Io Perché Io Un Livello 107 Comunque Io La posso Dire Perché Io Ho Finito Io Ho Finito Il Video Quindi Posso Dire F Gabreno Cavolo Arriviamo Io Sono Sopravvissuto A 40 Fasi Della Tempesta Arriviamo Mamma Niente I Alla Ine Della Partita Beh Sì Senza Dire E F Ok Sì Mi Hai Inito La Ar No Perché Ho Sprecato Materiali Che Bello St'albero Io Ho Paurissima Che Di Dire F Sì Io Sto Farmando Farm Questo Albero E Questa Pietra Sì Se Arriviamo In Top 5 Mi Mi Fatto Male Senza Dire F Lasso Like Cosa Sto Facendo E Scri Vete Gabri Sì Gabri Mangio Gabri Aiuto Sei Stupido Aiuto Gabri Tu Sei Stupido Farmone DF Gabri 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 DF DF Mi Stai Non mi Ruba Queste Puzzolenti Ok 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 Vabbè Comunque Sono Già Full Perché Lo Scudo Ce l'avevo Già Tutto Scudone Non So Se Te Lo Puoi Fare Io Non li Prendo a Farmare Perché Ho Pochi Materiali Ma Quindi Tu Stai Registrando No Sì Siamo Siamo Rimasti In 16 Ora In 14 Io Devo Riuscire a Sopravvivere A questa Safe Almeno Sono A 41 Safe Sopravvissute Però Ora Sono A 40 E Quando Arriverò A 50 God Pausa Gioco Di Non Dire La F Ragazzi Lo sapete Come Ho Fatto Questo Video Praticamente Ho 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 Detto Oggi Non So Resistriamo Poi Mi È Mamma Dire Mi Spaccano No 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 Mi Tirano Le Pullo Ren Ce l'ho Anch'io Per No 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 Cacchio Pregno Che Fra un po' Muore Di Pugolento Pregno Che fra un po' Muore Dalle mie Puzzette Oh Lo sto facendo Morire Di Sei Se Mi Tirano Questo Qui È un Genio Una P Ucciso Grande Io prendo Il loot Di questo Di sotto Dov'è Scusa Il loot Del mate Dov'è Vabbè Il p Novo P No Vabbè E Polo Non c'ho Razi Aspetta Aspetta Che mi Curo Il lancio Razi Lo prendo Al posto Di queste Due Puzzolenti C'è Una Bacca Mi dai Razi Mi dai Colpi Della R E Dei Razi Vai Muoviti Aspetta Sta partendo Gabri Ci fai morire Vabbè Una Jump Vai Dammi Del lanciarazzi Ce l'hai Vai Vai Mi hai fatto Prendere Danne Da safe Vabbè Dai Solo Quattro Di vita Vieni Qui Dove Sono Io Cavolo Scivolato Perché Non puoi Ah no Non puoi Io Sono Andato No Ho messo Il ping Come se ci fossero Dei nemici Ma non ci sono Nelici Cioè In realtà ci sono Ma Ma si sono Giampati da me Aiutami Li sto Sparando Aiuto Cos'hai detto Gabri C'è Mamma Ehm Va bene Dove Sono Dove Sono Non So Ecco Ecco Così Fresco Si Sparano Anche Da Quell' Lato Siamo Lì Morirà Di Safe Devo Dire Arrivati In Top 7 No La Top 7 Non Esiste La Top 5 6 Persone Per L'autorità Non so Aspetta una Top 5 105 105 8 Shield Top 5 Top 5 Corona Top Che Esiste 5 105 105 Di vita Quindi Non Non Aneta 17 Moto Ninja C'è No No Devo Devo Ricaricare Aiuto Aiuto Vai Vai Vado 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 Non mi ha chiuso Mi ha chiuso Non so Non so Dov'è No Questo qua Build Bene Beh Sì Tanto io Sono morto Vabbè Gabriel Devo Abbandonare E Devo Andare A mangiare Guardiamo Guardiamo Se la Vince Posta Cavolo Arrivo D'elicottero Ci si schianta Ok Non ti si schianta Ci si schianta Adosso St'elicottero Per Ultuna No Dai Che Partita Epica Vabbè Torno Alla Lompi E Nel frattempo Monto Il video Io Ragazzi Lassa Dovete Lassare Like E Iscrivervi Perché Abbiamo Superato La Sfida Sì Ok Ragazzi Ok Ragazzi Iscrivetevi Al canale Lasciate Like E Coltelli Da sub Vi salutano Vi salutano E Anch'io Vi saluto Quindi Ciao Ciao